E' allestita fino al 22 dicembre al Museo del Carcere Le Nuove di Torino la mostra Resistenza, Società e Costituzione, Testimonianze di Libertà, realizzata dall'associazione ONLUS Nessun uomo è un'isola. Patrocinata dal Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale, la rassegna raccoglie testimonianze, documenti e proposte con l'obiettivo di promuovere la memoria storica di quel periodo. La grande novità di poter conoscere gli archivi, i nomi, le storie piccole, grandi, quelle note, quelle non note che tutte insieme hanno fatto quella tragedia che è stata, quella grande epopea che è stata la lotta di liberazione e la resistenza che ha permesso al nostro paese di avere la democrazia e la libertà. Questa è la cosa importante di questo evento alle nuove da carcere a sede di mostra e esposizione.